Forse non c'è sui libri di scuola. Eppure Giulia Balbilla ha scritto Avevo sentito dire che Mnemon l'Egizio, dal raggio del sole scaldato, faceva udire una voce dalla pietra tebana. Appena vide Adriano sommo sovrano, prima del comparire dei raggi del sole, gli disse salve come poteva. Ma quando il titano, lanciandosi coi suoi bianchi cavalli attraverso l'aere, teneva nell'ombra l'ora seconda, come un bronzo colpito Mnemone di nuovo gridò, con voce acuta, salutando ancora per la terza volta, emise un suono.